Un'antologia sul colore azzurro, edizioni in formato tascabile dell'infinito, la divina commedia scritta a mano con fronte spizzi con decorazioni manuali ed ancora scritti come lettere copernicane, opere giovanili di Galileo con disegni originali di Oscar Piattella e la città di Iesi raccontata anche con acque forti con copertina e legno. Tutto questo tesoro editoriale del marchio Una Luna da oggi è ufficialmente patrimonio della collettività, visto che è stato donato all'amministrazione comunale ed affidato per la fruizione di tutti alla biblioteca sperelliana. È un altro piccolo passo nel cammino voluto da Alessandro Sartori e dalla casa editrice Una Luna, questa donazione che oggi si concretizza e voluta appunto dal fondatore del marchio editoriale e che aveva deciso di lasciare alcuni preziosi volumi della casa editrice. Aveva voluto questo allestimento in questa parte della biblioteca e soprattutto aveva voluto che fosse esposta questa copia unica della Divina Commedia. Copia unica perché è stata stampata e l'artista Cecco Bonanotte ha poi arricchito questi pannelli di carta di cotone fatta a mano con i suoi interventi e in occasione dei 750 anni della nascita di Dante Alighieri che appunto cadono quest'anno, la biblioteca, il Comune e noi come Associazione Arte del Libro abbiamo intenzione di valorizzare questo importante patrimonio e quindi oggi è l'occasione per sancire questo accordo e ci saranno anche molte altre iniziative future. Ci sarà addirittura ad ottobre su iniziativa, su proposta dell'Università di Bologna un forum chiamato dei Bibliofili Affamati, cioè le eccellenze dell'Editoria d'Arte d'Italia si ritroveranno per due giorni a Gubbio per stilare una sorta di manifesto, di carta in questo caso, che è proprio ancora più appropriato, da consegnare alla collettività e all'attenzione del mondo politico, del giornalismo e all'attenzione degli appassionati. La Biblioteca Spirelliana con questa donazione Una Luna si impreziosisce ulteriormente in merito al suo patrimonio librario. Io credo che la qualità di Una Luna vada promossa anche dal punto di vista proprio dell'artigianato, di elevatissimo profilo che diventa arte in tanti suoi aspetti perché può diventare uno dei grandi simboli e anche strumenti di promozione della nostra città.